Ancora una volta c'era che siamo tornati in un nuovo video, oggi si è qui Dove vi spiegherò perchè non sto facendo più video Allora Già ho che sto facendo un po' di aggiornamenti Che anche purtroppo, questo aggiornamento non penso che lo faceva Ma è anche successa una cosa molto brutta Che vi dirò dopo, continuando a fare video Poi, non so se lo state notando, ma la mia voce è cambiata Cioè funziona meglio Ecco, perchè ho comprato un microfono Vedete anche lo sfondo là che è diverso Si stava spegnendo Quindi Quindi Purtroppo Adesso vi devo lasciare senza video per un po' di tempo Forse si, è possibile che qualche volta ve lo potrò portare Però è difficile Comunque Anche perchè sto facendo dei lavori Che forse vi dirò e forse non vi dirò E forse vi farò vedere nella vita reale Però adesso Oggi era solo il motivo perchè non sto facendo più video Perchè sto lavorando Perchè sto lavorando a una cosa molto complessa Infatti Infatti ho comprato questo microfono Proprio per far sentire bene la mia voce E quindi Poi sto Lavorando per Alcune cose Che forse vi farò vedere nella vita reale Quindi Quindi Diciamo che vi devo lasciare E vi ricordate la pubblicità? Mamma mia Quindi Questo era solo un video per capire cosa stava succedendo Perchè Non avevo Non faccio più video A volte Può capitare che lo faccia Non è che è successo qualcosa No Qua va tutto benissimo Non vi preoccupate per me Io sono a posto In caso se succede qualcosa a me Ve lo dirò Quindi Questo era solo un video per spiegare Cosa mi stava succedendo Quindi Da Gabriel Out